Agrilevante 2023, ecco quello che ho visto. Questi due giorni sono stati fondamentali per farmi un'idea chiaro di quello che è anche l'agricoltura italiana, differente dalla mia. Infatti ho visto un sacco di macchine specializzate proprio per l'olivicoltura, molto ma molto interessanti. Trattori, trattori totalmente diversi da quelli che vanno nella mia zona, quindi molto più piccoli, settati in modo diverso, senza cabina. Un sacco di macchine specializzate, ma soprattutto tante persone appassionate. Quello che mi è piaciuto tantissimo di Agrilevante che mi portano il cuore è la dimensione agricola di Fiera, che veramente, veramente è stata molto presente. In attesa di Emma dell'anno prossimo ti ricordo che sul canale YouTube puoi trovare tutto il video dove ti faccio vedere tutte le mie giornate in Fiera.